Immediati i richiami dalle terre alte nei confronti del neo-insediato governo a guida a Giorgia Meloni. Sgravi sull'energia, immediata approvazione della legge quadro sulla montagna, accelerazione delle opere in vista dell'Olimpia di 2026, misure straordinarie per i giovani. Questi quattro punti che attraverso la propria presidente Lorraine Bertone, Confindustria, Belluno e Dolomiti, pone immediatamente all'attenzione del nuovo esecutivo. La rapidità con cui è stato formato lo stesso fa ben sperare anche Confartigianato Belluno nelle parole della sua presidente Claudia Scartanella. Ora, viene detto, servono stabilità e concretezza per dare respiro al mondo delle imprese e intervenire sui problemi più impellenti, come il caro Bollette, senza dimenticare le questioni della montagna bellunese. E se un giornalista Rai, come Gennaro San Giuliano, diventa ministro, ecco che un altro ex giornalista Rai, oggi sindaco, spiega la situazione nelle terre alte. Ci sono tutti i presupposti perché i prossimi mesi siano veramente drammatici, di preoccupazione. L'aumento del prezzo dell'energia andrà a condizionare moltissimo la stagione invernale in montagna, moltissimo. A partire dall'impiantistica sportiva, quella diciamo più comoda, palaghiaccio, piscine, e questo vale anche per la pianura. Ma poi noi abbiamo la realtà, è vera, è che in montagna la vita d'inverno si chiama sci. Se le bollette che sono cominciate ad arrivare saranno consone per quanto riguarda gli impianti di sci, gli impianti di risalita, sarà veramente drammatica.